Sta registrando no? Ok signori, siamo qui intanto in presenza di Mimmo, un abitante della zona dei Ronchi che ci ha fatto notare anche lui che c'è un problema. Il problema qual è Mimmo? Intanto inquadra ragazzi Che c'è il semaforo e 15 giorni che non va. 15 giorni che il semaforo è spento, le macchine si fermano, suonano e io da buono cittadino, via, via che il semaforo è spento, a lei le tocca fare un po' da vigile ma il comune dov'è il comune? Il comune dov'è? Sono già passati giorni e giorni, abbiamo già fatto un video abbiamo già parlato, ma sto semaforo non funziona, non funziona, o che si fa? Qui la gente va, viene, un casino a madonna Ora, ora comincia ad andare le macchine, non so perché non si fermano, infanno un po' le macchine un attimo Tutti i semafori spenti Ma magari, mi è venuto in mente questa, magari può essere una, venga qua, può essere una situazione che magari il comune lo fa per l'inquinamento, magari dice risparmiamo l'energia e non si inquina Quindi anche tutti gli altri comuni dovrebbero prendere spunto La verità non ha senso perché non inquinano Ora vedete, abbiamo uno signore che è un po' imparato, non so cosa fare Poi si busta, si è fermato, si è fermato Gente che attraversa, non so se è verde, rosso Tutto un casino ragazzi, qua allucinate Più piano camera, più piano Più piano camera Questa è la situazione che abbiamo al bagno roccio Da 15 giorni, eh, da 15 giorni che non funziona Cioè ragazzi, almeno venite, mettete un cartello, semaforo rotto O se no fate il lampeggiante giallo Il lampeggiante, il lampeggiante è una cosa migliore Ma bisogna intervenire Si fermano e bisogna fare anche il vigile Sì, 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 ma la gente che attraversa qua, guardate c'è una ragazza laggiù Che è due ore, che ferma lì, che deve passare Vorrebbe passare ma non capisce quando è il suo momento Insomma, comune, svegliamoci, eh Guarda, questi passano, non so se è il loro momento, non capisco Situazione, guarda, guarda, guarda quello, guarda quello Si ferma, guarda, si ferma, rallentano Non sa ne che fare, non sa ne che fare Questa è la situazione roccio Comune, sveglia, eh, sveglia Parola chiave, in te Interveniamo subito, eh, ma subito, ok? Signori, da Frank Mazzoni e Mimmo È tutto, ci vediamo nel prossimo video Addio Un'altra signora col bimbo Ecco, vai lì, vai lì Eccola, eccola, eccola Un'altra signora col bimbo Non sa cosa fare, sa attraversare Macchine vanno Macchine vanno Semaforo spento È inutile che scaccia il pulsante Signora Non scaccia il pulsante, non va Non me lo dica, mi lo dica Signora Signora, occhio Non scaccia il pulsante, non va Occhio alla strada Guardate la situazione La signora la fa passare Aspetta Questa è la situazione rocchi che abbiamo in questo momento Eccola qua Non sanno Signora che non funziona nulla qua Stiamo facendo capire al comune Non si sa come va Non si sa Non si sa Con la bimba, eh Anche c'aveva la bimba Piccola Quella signora là Che vedete È tre ore È tre ore Che deve passare Ma è ancora È ancora là Mi sentiamo Ma è ancora scuro Oh signora Fra mezz'ora Forse passa Quando vanno a mangiare Forse passa E att Oh signora